Hola! Ehi amigos e amigas! E gente meravigliosa, benvenuti al mio canale Irini Pop, un nuovo video! E in questo video ti mostro, ti parlo e ti explico lo che passò con la Ica di Nati Natasha quando le dice mamà per la prima volta. E passò questo. Raffi Pina grabò la scena che sua Ica busca a Nati, sua mamà, e per la prima volta dice mamà e lo lograron a grabar. E così come la prima volta dice mamà, ora che tiene più di 3 mesi e sua Ica non trova a Nati e quindi la chiamò. E lei quando arrivò e vio che stava dicendo questo, llorò e ovviamente si emocionò. E Raffi Pina logrò grabar questa scena che anche loro, Nati Raffi, la vieron molte volte e la compartieron con i fans. Che dice mamà per la prima volta, mentre sua Ica estaba semplicemente vedendo la televisione. E passò questo. E fu molto bello che già comincia e vuole parlare. E che ovviamente con i mesi più avanti sicuramente va dire mamà meglio. E questa è stata una della prima volta. E è stata grabata. E fu molto emocionante per tutta la famiglia e tutti i fans che seguono questa meravigliosa famiglia. E questo passò quando la Ica di Nati Natasha Raffi Pina dice mamà per la prima volta. E fu molto bello. E hey a tutti e tutte, grazie per vedere il video fino a qui. Se ti piace questo video, dalle un me gusta, che è un like o comenta. E se vuoi iscriviti a mio canale che si chiama Rinipop. Grazie per seguire il mio canale. E ti ricordo di attivare la campanita, così puoi vedere quando arrivi un nuovo video in mio canale. E ora ci possiamo ascoltare e vedere la prossima volta con un nuovo video in questo canale, in mio canale. e di Rinipop, saludos a tutti!